Buongiorno cari amico Buongiorno, imparando salta la corta Un po' veloce, pero si probo Oiga, me estoy estancando primo de iniciar la actividad física El giorno de hoy, que cosa faccio? Voy a fare 4 ejercicios de activación muscular Per que cosa serve? Per razonare, tonificare, activare nuestro músculo Prima de fare la actividad física Lo hablo, españolo, italiano Faccio confusione Lo importante, que el movimiento Lo importante es la actividad física Mira comando, 4 ejercicios voy a fare de activación muscular 4 no, faccio 5, 5, 5, 5 Utilizo mi método Tabata 30 segundos de trabajo, 30 segundos de actividad Con 10 segundos de recupero Un recupero poco, poco, pero será intenso Pero por questo se llama una activación muscular Quanto dura? 5, 6, 6 minutos, pero costante Tu que estás iniciando, prueba, prueba a hacerlo Inicia, inicia, inicia con física Primo de iniciar, vamos a fare un poco de movilidad articulare Giro, 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 giro El ginocchio, la rodilla Está caldo, está caldo en esta ciudad Estamos en pleno estante, en pleno verano Mueve, mueve, mueve el bachino la cintura l'importante è che tu lavori a tuo ritmo sempre ci saranno persone che sono più forti e persone più deboli che stanno iniziando lentamente 4 esercizi 4 esercizi no, 5, 5, 5 30 secondi con 10 secondi di recupero ok, indietro, indietro, un po' la spada avanti adelante, los hombros me muevo, me muevo, me muevo flexiono, giro cambio ok, perfecto bueno, passo, allora metodo il capellino lo importante primo di fare, qualsiasi attività fisica dobbiamo di mangiare qualcosa, di comere qualcosa, non fare attività con la pancia buota, con la barriga vacia importante, per questo esercizio osserva non è che ripetirlo, di 3 a 4 volte a settimana, importante, una sana e corretta alimentazione, anche importante dormire bene almeno le 8 ore, io ho già dormito come 10 ore, perché sono così carico e forte, un po' di idratazione, idratazione si vuole ricca e saporita questa ok, va a utilizzare mi, utilizzo mi metodo Tabata oggi mi assistente non vino, adesso cerco il telefonino, non vedo il telefono ok, ok, ho trovato il telefono, adesso metto il mio metodo Tabata, 30 secondi, con 10 secondi di recupero io voglio che tu mi dai il massimo, che tu mi puoi dare il massimo, vamo, ok tabata, 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 oiga dura, dura 5 secondi, 20 secondi, no, vamo parla di 10, 10, 5, 5 exercici, 6 minuti con 40 secondi 4, 3, 2, 1, 0 jump in già, guarda, jump in già, punta, punta di piedi, punta, tab, 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 30 secondi, ok perfetto, questo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, il futuro, guarda, il futuro qua, passa qua, il futuro, uno, due, tre, forza, forza, venga, venga, asia, asia presente, tutto il mondo, guarda, molto bene, molto bene, gladiatore, non parlo mandarino, guarda, la prossima volta lo saluto, vamo andiamo, forza, 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 si, vamo, vamo, oiga, oiga, la camata chinesa, guarda, il futuro, uno forte loro, guarda, sono tanti, sono utanti, per cui lo comandano, il secondo guarda, toco, è importante, che il ginocchio non so per fare la punta del piede, toco, toco, ta, abro, toco, tabto, toco,". Para�� che il ginocchio, non soricka la punta del piede, toco, ta, abro, toco, a Ты quanto mi Freunde è come réuss tramp shall通linking. bello, tocco, abro, toco, t仔, tocco, t仔, tocco, atrovo. Repitiamolo nuovamente, un po' come scoordinato. Questo lo faccio meglio. Si va, si va. Abro, toco, chiudo, abro, cambio. Cambio, 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 cambio. Venga, yo parlando me estanco di più. Perfecto. Continua, continuo a la pera. A la pera. Con este movimiento guarda. Sempre, sempre in corsa. Si. Corsa. Corsa. Si. Uh. Uh. Forza, forza, forza. Si, si, si. Indietro. Beh, girare. Uh. Forza. Andiamo. Uh. 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 mantente, mantienete mantienete guiralo, 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 guiralo guiralo, 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 guiralo forza, forza, forza santa madonna, el que sigue più duro mountain climber postura mountain climber guarda di fronte 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 ultimo io stanco qua ok, il ultimo 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 forza ultimo forza va, ultimo forza ultimo forza el giorno oggi e abbiamo finalizado activazione muscolare forza, firme energia, per questo che stiamo in estate, che meglio che potete in forma anche in casa grazie, grazie per guardare questo allenamento, questo allenamento con Fisima se ancora non ti è inscrito, iscrivete a questo, grazie, De Cuore, Pablo